Ah, io sarai pazza! Vedere una ragazza che si vuole ammazzare e stare lì a guardarla come se si vedesse rappresentare una scena di commedia però come dice il proverbio noi abbiamo le voci e voi altri avete le noci Il suo nome è Lucrezia Sì signore Crizzina per obbedirla E' molto tempo che la fa questa professione Oh scusi, non può essere molto tempo A poco presso e la può vedere dalla mia età E chi ha preso il gusto del teatro una volta non sa staccarsene più finché vive E io servo dei punti resterò senza niente Pazienza! Non potrò terminare che come avrò principiato Signora Signora Che cosa vuoi? Due signori desiderano riferirla Chi sono? Il signor Don Roberto e il signor Don Gizmo Vengo subito! Ma in questa camera non c'è uno specchio! Argentina, come ti pare che sia? Voi avete una buonissima cera! Non dico questo, è il capo! Mi pare di averlo male assentato! Ehi là! Perché ridi? Ma ridi di quell'ignorante che ha fatto questa bella composizione Che ne fai tu del genere femminile? Ma io dico che... Via via, non voglio sentire altro! Dico che chi ha fatto questa bella composizione? No, guarda io! Argentina Signora Tiene un gran caldo la tua padrona Effetti della vedovanza La disce a stare senza marito? Non mi fate dire! Eh, raccontatemi qualche cosa! Se potessi! Adelina Verrà da voi signora, vi racconterò ogni cosa! Tutto il giorno pazzie Quello del giorno non conta niente, bisogna vedere quello della notte! Deve smaniare Come una bestia! Osservilo quest'altra camera Quella per dormire E questa per ricevere Serva, umilissimo, della signora baronessa Contessa Paolo e Minchino Bisogna appiegarlo bene a ciò Non si guasti questa sorta di roba Bisogna custodirla con attenzione Mirandolina Tenete Vuole che lo faccia mettere nella sua camera? No Mettetelo nella vostra Perché nella mia? Perché ve lo dono Oh! Signor Marchese, perdoni Tant'è Ve lo dono Ma io non voglio Non mi fate andare in collera Lasci fare a me Dice Signore Lo farà Che glielo farà Che le anderà dipinto Ha preso il vestito Ha preso il vestito E se ne è portato via Induvinate Solo quindici giorni ora E non me l'ho ancora portato Queste sarte Sono fatte tutte uguali Promettono 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 E non mantengono mai A presto A presto A presto Toda A presto A presto A presto Grazie a tutti.